Nella millenaria storia di Benevento figura anche un particolare tipo di scrittura che ha avuto la sua fortuna in epoca longobarda. Si parla del carattere definito appunto beneventano e che fu il punto di riferimento per i territori sottoposti al dominio della popolazione di origine germanica in tutto il Mezzogiorno e anche oltre, estendendosi anche fino a Monte Cassino. Se ne è parlato nell'ultimo appuntamento promosso dall'archeoclub Sannita. Parlando di questa scrittura beneventana bisogna dire anzitutto che è un'eccellenza come si suol dire adesso poco nota perché gli stessi beneventani a lungo l'hanno trascurata e non ne sapevano niente. È stato all'inizio del secolo scorso uno studioso inglese di lingua inglese che ha fatto degli studi approfonditi a Monte Cassino e quindi ha scoperto l'esistenza di questa scrittura beneventana che è stata in auge per cinque secoli dall'ottavo al tredicesimo secolo e quindi ha avuto un massimo sviluppo in tutta l'Italia meridionale persino sulla dinamazia. E quanto agli ultimi tempi c'è una tendenza a rivalutare tutto quello che ha appartenuto alla storia beneventana e quindi ne parliamo in questa occasione non per un fatto specifico, un'occasione, una ricorrenza, ma soltanto per un'illustrazione del tema che andrebbe ancora approfondito perché c'è ancora molto da studiare, anzi sarebbe l'occasione che molti giovani che oggigiorno non hanno una strada precisa seguissero anche la strada della ricerca in campo paleografico perché la paleografia è una bellissima scienza che significa scienza dell'antichità, della scrittura antica.